Musica 6 e 30, buongiorno, bentornati all'appuntamento con la rassegna stampa e diamo anche il benvenuto ai radioascoltatori di Radio in Blu. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e iniziamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale è un titolo politico, Conte Zingaretti, vertice del chiarimento. Un incontro di un'ora, Conte Zingaretti, il Presidente del Consiglio e il Segretario del PD. Dopo le critiche e il chiarimento, la pensiamo allo stesso modo. Ora bisogna correre la sintesi del Premier. Uno strappo ricucito, ma il decreto semplificazione che avrebbe dovuto vedere la luce non decolla. Ci sono ancora divisioni sia nella maggioranza, nel governo, ma anche tra le opposizioni. C'è una bella notizia a centro pagina del Corriere della Sera. La notizia è quella della sentenza finalmente arrivata della Corte di Giustizia dell'AIA. E allora leggiamo insieme Marò, processo in Italia. La Corte dà ragione ai nostri fucilieri, ma condanna Roma al risarcimento. Il processo ai fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, si terrà in Italia. La sentenza condanna l'Italia al risarcimento per i due pescatori indiani, rimasti uccisi nel 2012 in questo incidente, per il quale per ben otto anni i nostri Marò hanno avuto problemi. Finalmente riotteniamo la libertà dopo otto anni di limbo, ha commentato Girone. Questa è stata anche la prova più grande perché sia Massimiliano Latorre sia Salvatore Girone hanno dato veramente prova di essere forti, di essere quei militari dei quali siamo fieri. Non c'è stata mai una parola fuori posto. Hanno atteso che la giustizia facesse il suo corso. Immaginate che non avevano nemmeno la possibilità di parlarsi ancora tra di loro. Questa è la prima pagina del Corriere, ma andiamo subito ad un'altra prima pagina. La Repubblica, lavoro, il conto del virus lo pagano i più giovani. Questo è il titolo principale. L'Istat fotografa il dramma degli under 25 dopo la pandemia. La disoccupazione sale al 23,5%. Cancellati in un anno 600 mila contratti a termine. E nel mondo uno su sei ha perso il posto. Il flop dei centri per l'impiego costano, ma non creano opportunità. Il commento di Tito Boeri, sempre in prima pagina per la Repubblica, non lasciamoli indietro. Questi dati ci dicono quale sia l'altra faccia della medaglia del blocco dei licenziamenti in vigore fino a metà agosto. Concentra le riduzioni dell'occupazione interamente sui più giovani. Anche Repubblica, in prima pagina, ricorda questa prima svolta sul caso Marot. Si parla di una vittoria per l'Italia. Ma viceversa, sempre in campo estero e sempre dalla Repubblica, prendiamo anche quello che riguarda il caso Reggeni. Il presidente della Camera FICO ha parlato in maniera veramente meno che istituzionale perché ha detto che bisogna rispondere al cazzotto dell'Egitto. Cautela, prudenza, pazienza. Ecco cosa predica Conte di fronte all'ennesimo schiaffo dell'Egitto nelle indagini per il brutale omicidio di Giulio Reggeni. Un cazzotto, così dice il presidente della Camera. Fabiola Giannotti, la vedete, la direttrice generale del CERN, il più grande laboratorio di fisica al mondo. E anche lei con una foto su Repubblica. Ecco perché ho scelto di aiutare le donne. Lei la troviamo, questa scienziata, nella Task Force sulla parità di genere. E sappiamo quanto c'è ancora da fare. Un'altra notizia, sempre da Repubblica, a pie pagina, è arrivata probabilmente in fondo quando stavano per chiudere le rotative. Premio strega, bis di Veronesi, battuto, caro figlio. Ancora una prima pagina. Andiamo insieme a leggerla. E stavolta ci spostiamo su Avvenire. Il titolo di Avvenire è un titolo che non ha nessun altro. Perché? Perché è un'inchiesta tutta di Avvenire. Tutta del collega Nello Scavo, che sappiamo è stato anche minacciato di recente. Tutta la nostra solidarietà va a lui. Ecco i fondi segreti dati ai sindaci libici, alle municipalità e capi bastioni, 18 milioni per ospedali e opere urbane mai realizzati. L'opaca gestione dei soldi versati a Tripoli e alle tribù dal 2017 per favorire lo stop dei migranti. Che cosa scrive? Quanti soldi dall'Italia e dall'Europa sono arrivati in Libia? La risposta è uno dei segreti meglio custoditi del continente. A cominciare dai fondi alle cosiddette municipalità, ai comuni, enti locali in gran parte in mano a clan e milizie, che solo nel 2017, dopo che l'Italia negoziò e ottenne il calo delle partenze, sono costati ai contribuenti almeno 18 milioni di euro. Non è che la punta dell'iceberg, come dimostrano i 318 milioni, scuciti all'Unione Europea, senza che questo abbia portato né pace né diritti umani. Il caso dei sindaci però è esemplare. Uno dei documenti riservati ottenuti da Avvenire e Danello Scavo racconta della trattativa tra i capi bastone libici e i funzionari italiani. Ad ogni pagina del fascicolo sono stampate le insegne della diplomazia italiana. La farnesina non è in grado, così dice, di confermare né di smentire. E ancora una notizia dall'estero per la prima pagina di Avvenire. Stavolta arriva dal Myanmar, dalla Bermania, tragedia con oltre 160 vittime nella miniera franata per le forti piogge, morti nel fango cercando la giada. La forza distruttrice dell'onda di fango sollevata dalla frana che si è abbattuta su una cava di giada a Pacant nel Myanmar settentrionale è durata appena un minuto. Sepolti vivi in 60 secondi almeno 162 minatori. Poco più di 50 sono i superstiti sottratti alla melma dai soccorritori trasferiti in tre ospedali dello stato di Kachin. Ma il bilancio è provvisorio e dispersi infatti sono ancora decine. Ecco, queste sono le notizie per avvenire. Ovviamente anche loro riportano il caso dei Marom. Ma noi ci spostiamo sul sole 24 ore perché le notizie economiche riguardano in questo caso il cosiddetto caso Caos Liguria. Fuga dal porto di Genova. Denuncia di Cosco, colosso dello shipping tra code e ritardi Caos mai visto. Inviata una lettera ai clienti per le spedizioni meglio utilizzare altri scali italiani. La cinese Cosco ha inviato una circolare ai clienti sconsigliandoli di utilizzare il porto Ligure per le loro spedizioni e suggerendo scali italiani alternativi. Ma insomma, ecco, questa era una delle notizie. Poi si parla sempre sul sole 24 ore di abuso d'ufficio. C'è l'intesa ma è ancora lite sulle grandi opere. Il governo sta cercando di accelerare i tempi per la sfinta finale al decreto semplificazione. Ma non ieri sono bastati un nuovo vertice di maggioranza e un preconsiglio dei ministri fiume a sciogliere i nodi. Il testo slitta al prossimo consiglio dei ministri, probabilmente lunedì. Il premier Conte difende la madre di tutte le riforme ribadendo ai partiti che ha fretta di approvarla che non permetterà venga anacquata. Troverà un accordo sulla riforma del reato di abuso d'ufficio per circoscrivere in maniera più puntuale la condotta dell'amministratore sanzionabile sul piano penale. Resalta la tensione sugli affidamenti senza gare e sulle procedure in deroga per lavori sopra la soglia dei 5 milioni. Questo è il Sole 24 ore, ancora l'osservatore romano, ricorda il lutto di recente sofferto da Papa Benedetto il cordoglio di Francesco per la morte di Georg Ratzinger in una lettera inviata al fratello Benedetto XVI. E poi ancora una notizia di esseri, Israele rinvia le annessioni dei territori, preoccupazione della Santa Sede su iniziative unilaterali che potrebbero mettere ulteriormente a rischio la pace in Medio Oriente. E poi ancora una notizia che arriva dall'estero, modificata la costituzione della Russia, sia una netta vittoria del sì nel referendum promosso da Putin. Restiamo sulle prime pagine, ma vogliamo anche darvi qualche notizia in più. La stampa di Torino, Salvini non molla, voto a settembre. Tregua tra Zingaretti e il premier, rinvio nelle semplificazioni, ora la partita è sulla legge elettorale. Io un governo con il PD non lo faccio, la via maestra sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le regionali e le comunali. Nell'intervista alla stampa, Matteo Salvini, leader della Lega, considera finito il governo Conte. Ieri tre ore di vertice, come diceva anche il Sole 24 ore, a Palazzo Chigi, ma non sono bastati al premier per superare le resistenze del PD sul cosiddetto decreto semplificazioni. A pie pagina, questo è quello che scrive Mattia Feltri nel suo Buongiorno, dai che ci riproviamo, è la nostra grande chance premessa. Come succede ogni due o tre settimane, in Italia si ricomincia a parlare di riforma della legge elettorale. Capito Europa? Voi che volete le riforme, questa la faremo, statene certi. È un tipo di riforma in cui siamo all'avanguardia mondiale, ne sforniamo una al biennio. Ora per esempio c'è il Rosatellum bis, perché si chiama il bis, lo ignoro, ma dà un senso di lavorio. Prima c'era l'Italicum, peraltro mai usato. Noi facciamo le riforme, anche se poi non le usiamo. Non c'è verso, noi riformiamo, è più forte di noi. Prima dell'Italicum c'era il Porcellum, ne andiamo ancora orgogliosi. E in origine c'era il Mattarellum. Ecco, anticipando l'avvio di dibatti fiammeggianti intorno a un Dimaiellum, o a uno Zingarettellum, o che so, un Toninellum, suona bene però, noi riproviamo con il Butanellum, il magico sistema elettorale del Butan. Funziona così. Al primo turno si presentano tutti i partiti, senza candidati, solo col simbolo. I due partiti, col maggior numero di preferenze, accedono al secondo turno, ognuno con 47 candidati, in 47 collegi. Chi ne vince almeno 24 ottiene la maggioranza e governa, e ci si rivede tra 5 anni. Certo, è una legge scritta in otto righe, quasi un affronto per noi, i funamboli dello scorporo, della quota maggioritaria, delle liste bloccate, il ripescaggio, dei metodi don't. Se per caso, anche stavolta, l'idea non piacesse, chiediamo in subordine di affidare la pratica alla grillina Paola Taverna. Non per altro è che ne uscirebbe un nome particolarmente caratteristico, Tavernellum. Ovviamente, insomma, ecco, Mattia Feltri, scherze. Allora, insomma, ritorniamo anche sul Corriere della Sera a questo punto, perché leggendo a fondo pagina c'è il caffè di Massimo Gramellini. De Gregori a tenda in linea, questo è il titolo. Francesco De Gregori ha raccontato di aver cercato in vano di mettersi in contatto con il Presidente del Consiglio. Voleva ringraziarlo per una citazione di Viva l'Italia, la sua canzone. Non capita spesso che un principe, così chiamano De Gregori, si degne di chiamare un conte. Invece, il centralino di Palazzo Chigi lo ha lasciato in attesa, senza nemmeno passargli la segreteria del Premier. L'idea di De Gregori, trattato dalla nuova casta come uno stonato qualsiasi, è suggestiva, ma non basta spiegare il fenomeno del cosiddetto centralinismo romano, autentico presidio democratico del Paese. Nessuno sottovaluta il contributo dei centralini lombardi, veneti o lucani, che non si è mai sentito dire a tenda in linea da una voce un po' scocciata. I centralini elettronici, benché asettici, sono altrettanto indisponenti. Però il centralinista romano in carne e ossa, nei rari habitat dove ancora sopravvive, presenta una peculiarità, la sublime indifferenza per lo status dell'interlocutore. Rimane famoso il caso del centralinista di un quotidiano della Capitale, a cui le Brigate Rosse osarono telefonare per rivendicare un attentato durante la pausa pranzo. Un momento, sto a mangiare, li rintuzzò l'eroe. Forse non ha capito, siamo le BR e lui serafica. Ho capito, mica sono scemo, non prendo il taccoino, un po' di pazienza. Quel giorno il terrorismo capì che non avrebbe mai fatto breccia nelle classi popolari. Quanto a De Gregori, la prossima volta che vorrà ringraziare Conte, gli suggerisco di mandare un disco autografato a Casalino, il responsabile della comunicazione. Andiamo all'interno delle pagine dei nostri quotidiani e appunto scopriamo qualcosa di più sulla vicenda dei Marò. Ora finalmente liberi, questa la gioia raccontata sul Corriere della Sera, che torneranno a parlarsi. Massimiliano Latorre, 53 anni, originario di Taranto, Salvatore Girone, 42 anni, di Bari. Sono entrambi nel corpo dei fucilieri della Marina, i cosiddetti Marò per l'appunto. Massimiliano Latorre è stato colto da un ictus mentre si trovava in India nel settembre 2014. E sempre la scorsa estate Latorre ha sposato la donna che l'ha aspettato per tanto tempo. Adesso c'è la competenza e finalmente il loro caso può essere giudicato dall'Italia. Andiamo ancora avanti e quello che vogliamo raccontarvi arriva stavolta dall'estero. Perché? Perché appunto c'è una vicenda che colpisce chiunque abbia visitato Istanbul. ed è quello che riguarda Santa Sofia. Erdogan la vuole moschea. Da basilica a museo tra i più visitati del mondo. In questo momento è un museo. Ora il presidente turco intende destinarla ai musulmani. È un luogo conteso. Adesso, tra poco, scrive Andrea Riccardi, Aghia Sofia sarà moschea. Così sembra volere il presidente turco Erdogan. Da tempo critico sulla sua musealizzazione. benché sia attrazione di milioni di turisti a Istanbul. Le guerre per i templi sembravano passate. Ma non è un tempio da poco. E la basilica costruita da Giustiniano nel 537 per farne la chiesa più bella del mondo. La divina sapienza, lo splendore d'Oriente. Qui sede del patriarcato ecumenico. Erano incoronati gli imperatori nella sinfonia tra chiesa ed impero. Bellezza dei mosaici, ricchezza dell'arredo e facevano il cuore sacro, magico di Costantinopoli. Città cristiana per eccellenza. Nuova Roma, i cui abitanti si dicevano romioi, romani. Ancora per i turchi, i greco-ortodossi sono i Rum. Ecco, adesso per far valere la sua forza, questo nuovo zar sta cercando anche di destinare soltanto ad alcuni la bellezza straordinaria di questo mausoleo. È formidabile ed è un peccato che ci siano delle tensioni in Turchia e non poterlo andare a vedere. Sempre parlando però di zar, adesso a questo punto volevamo anche raccontarvi di quello che sta accadendo per l'appunto in Russia. Perché quello che viene chiamato il nuovo zar Putin sta gonfiando i consensi per sentirsi grande. Anna Zafesova, che su Repubblica scrive dell'Europa dell'Est in maniera veramente competente, mostra come con la riforma costituzionale che è stata votata lo zar è ormai entrato nel club degli autocrati e addirittura in una cartina mostra dove regnano gli amici di Vladimir Putin. In Bielorussia, dove c'è Lukashenko, che guida il paese in interrottamente dal 1994. In Kazakistan, dove c'è Nazarbayev, presidente sin dall'indipendenza della nazione nel 1990, oggi è padre della patria. In Cecenia, dove c'è Kadirov, presidente dal 2007, di fatto guida il paese dal 2004. Azerbaigian, aliev, figlio e successore del presidente precedente. E il Tajikistan, presidente Ramon, dal 1994. Ebbene, come vi stiamo raccontando, è proprio questo il problema dell'Europa dell'Est tutta sotto l'influenza rossa. Noi salutiamo, ci congediamo dai radioascoltatori di Radio in Blu, ma intanto noi continuiamo la nostra rassegna stampa. E continuiamo appunto parlando ancora una volta di dittatori. Perché? Perché gli ayatollah iraniani sono arrivati nei Caraibi. La benzina a sostegno di Maduro. La missione di cinque navi che hanno trasportato un milione e mezzo di barili. L'Iran è uno dei pochi paesi che può sfidare gli Stati Uniti commerciando con Caracas. Ma sappiamo come il Venezuela ha subito anni di saccheggio dell'industria nazionale del greggio. Questa è la notizia, ma ancora andiamo alla pagina di avvenire. 18 milioni versati alla Libia, il terreno della diplomazia, il duello fra Francia e Turchia. E ancora però deludente videoconferenza tra la Procura di Roma e i magistrati del Cairo. L'Egitto continua la melina e sempre più voci chiedono di ritirare l'ambasciatore. Altri cinque agenti dei servizi egiziani tenuti sotto osservazione. La commissione parlamentare sentirà premier e ministri degli esteri in carica dal 2016 ad oggi. Giulio Isola scrive, la famiglia, il presidente della Camera, i partiti della sinistra politica, l'avvocato che segue il caso, l'Ampi. Insomma diviene di ora in ora più consistente il coro che di fronte al sostanziale ostruzionismo del governo egiziano sul caso Reggeni chiede al nostro governo una misura formale, un segnale forte. L'Egitto ragionano alcuni deputati 5 Stelle, è un nostro partner fondamentale per gli equilibri geopolitici, per il controllo della Libia. Ma insomma vogliamo la verità sul barbaro assassino di Giulio Reggeni. Andiamo ancora avanti, lasciamo gli esteri e andiamo alla cronaca, perché la cronaca ci parla di meno di mille ricoverati, un bilancio nel caso della ripartenza dopo la pandemia e soprattutto dopo la chiusura, dopo la serrata, da lunedì a giovedì la media dei nuovi casi quotidiani. È stata più 164, la settimana precedente era di quasi 207. Ritorno alla normalità, a Milano e a Lodi chiudono le rianimazioni d'urgenza, i sorrisi si intuiscono nonostante le mascherine. Meno di mille ricoverati con i sintomi del virus, 82 in terapia intensiva, i morti sono 30, effettuati oltre 53 mila tamponi. Insomma, pian piano l'Italia riparte, vediamo nella pagina del Corriere della Sera, vediamo le regioni e i casi in Italia, tra guariti, purtroppo vittime, positivi attualmente. Si parla di 15 mila persone, non è il caso ancora di abbassare la guardia, però diciamo che ci stiamo comportando bene. Parlando di cronaca, ritorniamo per un momento all'estero perché ricorderete il caso di quel finanziere che si chiamava Jeffrey Epstein, si chiama tuttora, è stata arrestata la fidanzata dell'orco, Ghislaine Maxwell, li vediamo nella foto della stampa. In fuga da un anno è accusata di complicità nel traffico di minorenni organizzato dal finanziere. Reclutava, istruiva e violentava le giovanissime vittime, partecipando lei stessa agli abusi. È veramente una vicenda assolutamente raccapricciante. Decenni di violenza, dal 5 marzo del 2005, quando una madre ha denunciato il finanziere e avrebbe abusato della figlia di 14 anni. Insomma, non c'è pace per le piccole vittime. Qui in Italia abbiamo Don Fortunato di Noto che con il suo meter cerca ogni volta di denunciare la violenza e la pedofilia, ma insomma i bambini sono sempre vittime in questo caso e sono stati vittime addirittura del loro papà Elena e Diego, i piccoli uccisi dal papà. L'arcivescovo del Pini, l'arcivescovo di Milano, scrive ai ragazzi di Gessate, il paese in cui vivevano i gemelli uccisi dal padre sabato scorso, il paradiso è la casa dove è asciugata ogni lacrima. Ascoltate Elena e Diego, saranno loro i vostri angeli, li vedete sorridenti durante una delle loro gite in montagna. I funerali sono stati fissati per domani, dopo l'autopsia i loro corpi sono stati restituiti alla mamma Daniele ed è stata organizzata la celebrazione. La cerimonia si svolgerà alle 10, ma non in chiesa, bensì nel campo sportivo di Gessate, il comune del Milanese in cui vivevano. Ci immaginiamo che sarà veramente grande la partecipazione di tutta la comunità di Gessate, di conforto le parole dell'arcivescovo di Milano del Pini. Parliamo di cultura, perché c'è il bis di Veronesi, il suo colibri volalto su Villa Giulia, nella notte il verdetto del più prestigioso agone letterario, il premio strega, 200 i voti secondo Gianrico Carofiglio con la misura del tempo e poi Valeria Parrerla con Almarina e Gian Arturo Ferrari, ragazzo italiano. Insomma, la sestina è andata così nella classifica. Che cosa ha raccontato? Lui dice il Veronesi, Sandro Veronesi, festeggia il trionfo nel 74esimo premio strega. Lui dice che quando ho vinto per la prima volta nel 2006 diluviava, era un'edizione particolare, anche questa è un'edizione molto speciale. Io rendo in condizioni estreme, è un tratto degli italiani di dare il meglio nelle difficoltà e sono quindi un italiano vero. Questa è appunto come abbiamo visto la nostra ultima notizia. Allora noi chiudiamo lasciando spazio ai programmi di TV 2000. Grazie per averci seguito, la rassegna torna domani come sempre alle 6.30. Buona giornata.